Adesso vediamo il discorso della spinta, l'attacco è un attacco semplice, è un attacco abbastanza popolare in strada, che serve a caricarsi, che serve per prendere confidenza con l'avversario, la spinta è un attacco lineare, quindi non devo fare altro con il corpo di uscire dalla linea. Ok? Come mi spinge, esco dalla linea, ok? Esco e vado via subito. Quindi, sono due difese, la difesa dal corpo è questa, ok? La difesa dalle mani, vado a ragionare come se fosse un jab, è un diretto, ok? Insieme, jab e diretto, questo abbassa, ok? Questo sposta, questo è il lavoro, lui rimane con le mani incrociate, boom, vado a colpire il setto nasale, creo shock alla cervicale e rottura del setto nasale, quindi abbinando corpo e mani, questo è il lavoro, uno, ok? Uno, ok? Uno, ok? Uno, ok? Vai, uno, ok? Due, il corpo, uno, boom, due, ok? Spingi forte, ok? Quando spinge, boom, il suo corpo viene avanti, ok? Il corpo viene avanti, io non devo fare altro che fermare la testa, ok? È già sbilanciato, mi spinge, vado, boom, boom, ok? Adesso, pericoloso, lo colpisco, lui cade, boom, finché ha il cervelletto, ok? Pericoloso, allora lo vado a prendere, prendo, non faccio forza contro forza, più sto distante, più devo fare fatica, ok? Anche se è sbilanciato, e se sono una ragazzina di 40 kg con un uomo di cento, non ce la faccio, allora vado, prendo, porto il petto, non uso la forza delle braccia, ma il corpo, boom, faccia a terra, ginocchio, qui, inalzo, eh? Sì! 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 Sì!